È un dibattito molto acceso, quello a cui stiamo assistendo tra il Governo centrale, le regioni e il mondo della scuola sulla possibilità di far tornare alla didattica in presenza gli studenti. Il nodo più importante che rimane ancora da sciogliere è quello dei trasporti. La data del 9 dicembre proposta dalla Ministra Lucia Azzolina sarebbe stata per ora bocciata dalle regioni che chiedono di prolungare la didattica a distanza fino a gennaio. Il nodo trasporti rimane e non piace praticamente a nessuno quanto proposto dalla Ministra Paola De Micheli, ovvero lezioni in presenza anche nel weekend. Anche secondo le aziende di trasporto pubblico locale l'unica soluzione sarebbe quella di scaglionare gli ingressi e conseguentemente le lezioni per evitare mezzi strapieni in alcune fasce orarie e praticamente vuoti in altre. Noi lo diciamo da molto tempo, finalmente vedo che il dibattito si è spostato effettivamente su questo argomento, occorre che ci sia una regia unica che decida i tempi nei quali si va a scuola, si va sugli autobus. Che cosa significa? Significa che dobbiamo diluire nell'arco della giornata la mobilità delle persone. Quindi le persone si devono muovere non tutte assieme tra le 7 e le 8 come è stato fino ad oggi, ma in fasce diverse di orario. Questo è possibile scaglionando e cambiando i tempi di vita delle nostre città, delle scuole, di ogni attività che le persone sono abituate a fare. Dobbiamo entrare in questa nuova idea, è un'emergenza quella che viviamo e la dobbiamo affrontare con un punto di vista nuovo. Gli autobus, quelli che ci sono, quelli che ci potranno essere, anche requisendo tutti quelli privati, possono essere messi tutti a disposizione. Ma se dividiamo per due, perché è il 50%, la loro capienza, la portata massima non è sufficiente a coprire la possibilità che tutte le persone si spostino nello stesso momento.